In questo breve video commenteremo contestualmente le lettere dalla 7 alla 10. Sono quattro lettere che si occupano in particolare della produzione vocale di Haydn, che si aprono con le sette parole di Cristo e si chiudono con la descrizione del grandissimo evento della messa in scena della creazione. Carpani prosegue il suo racconto della vita di Haydn con un tono sempre più amichevole, sempre più confidente con il lettore. Carpani è uno scrittore, uno che sa scrivere e pian piano ci coinvolge, alla fine con questo suo chiamarci amico alla fine di ogni capitolo ci fa sentire in qualche modo sempre più intimi e sempre più oggetto di confidenza in qualche modo. Ma c'è anche un elemento di distacco nel suo stile. Carpani è estremamente erudito, i suoi scritti sono tutta una profusione di citazioni e soprattutto di elenchi. Avete già visto nei primi libri e in questi lo vedrete ancora di più. Ci sono degli elenchi lunghissimi, elenchi di compositori, elenchi di opere. Sembra che in qualche modo ci voglia dimostrare che non dimentica nessuno quando incomincia a elencare qualcosa. La configurazione di questo libro è quella di un, per stare in una metafora, come di un sistema solare in cui abbiamo Haydn al centro e tutto intorno un moto di diverse tematiche. In questo senso il libro ci è utilissimo per capire non solo la vicenda della vita di Haydn, ma per capire anche tantissimi argomenti fondamentali che permeavano la società del tempo di Haydn, ma anche la società del tempo in cui Carpani scriveva. Allora cominciamo dalla lettera 7. La lettera 7, come dicevo, si apre con le sette parole che sono del 1787, il racconto di come sono state commissionate. Ora non sto a dirvelo perché c'è, lo dice chiaramente il Carpani nell'audiolibro. Dopodiché, per introdurre il carattere fortemente umoristico di Haydn nel nel suo scrivere musica, Carpani ci fa un'addottissima storia dell'umorismo in musica che parte con Merula e si conclude appunto con Haydn, passando da Iommelli e da Gluck. È emblematica la descrizione dell'opera I ritratti armonici di Clementi perché ci dice molto su quanto gli stili dei compositori fossero, gli stili musicali dei compositori fossero veramente parte della personalità del compositore, al punto che immediatamente da uno stile il pubblico poteva riconoscere chi ne era l'autore. È molto bello anche l'episodio di Porpora alla corte di Carlo VI. Anche qui non vi racconto esattamente il contenuto di questa storiella, ma ci dice moltissimo su quanto a un certo punto lo stile abbellito, diminuito, come si diceva allora, pieno di trilli della musica barocca, usiamo questa categoria nostra, moderna, non fosse più ben sopportato dal nuovo pubblico e Porpora risolve questa cosa in maniera molto umoristica. È un episodio davvero davvero molto carino. Carpani ne approfitta appunto di questa digressione sull'umorismo per dirci come Haydn usasse l'umorismo per ottenere proprio benevolenza, sia da parte dei musicisti di Eisenstadt che da parte dei regnanti. In questa sezione Carpani ne approfitta per darci ben tre versioni della storia della Sinfonia degli Adii. Carpani ci tiene a dirci, teniamo presente che quando scriveva questa lettera Haydn era in vita, quindi lui poteva attingere direttamente alla fonte, ma Carpani ci tiene a dirci che tutte queste tre versioni che sono contrastanti fra di loro gli arrivano da persone che affermano di essere state presenti. Questo è una cosa che ci dice quanto sia difficile e per certi versi anche inattendibile il lavoro dello storico, nel senso che quando c'è una fonte diretta sola si dà per certa questa cosa, poi ne salta fuori un'altra che è diretta anche quella e magari dice qualcosa di completamente diverso o contrario. La lettera 8 è un bel esame della musica vocale che viene divisa in musica sacra e profana e ci parla della musica da teatro di Haydn ricordandoci che questa è andata quasi interamente perduta in un incendio. Carpani ci dice che nella musica vocale Haydn non è stato un innovatore ma è stato un imitatore, il che non gli toglie nulla. è interessante questo capitolo perché contiene, come dicevo prima con la metafora del sole Haydn al centro e poi tante idee che ruotano intorno, ecco qui Carpani introduce uno spin-off diciamo al libro in cui ci fa un'esposizione scientifica di una sua teoria della musica che sarebbe basata sul piacere fisico rispetto ad altre arti come la pittura che sono più basate sul piacere intellettuale e fa tutta una serie di esempi. È molto interessante perché ci dice qualcosa sull'approccio di quegli anni all'arte. In questa descrizione ci appare la cantilena, ovvero quella che oggi chiamiamo melodia, la linea insomma, come il cuore vero della musica e tutto quello che c'è intorno l'armonia, i timbri, l'orchestrazione viene un po' paragonato ai vestiti che vengono messi su una persona. Nella nona lettera Carpani si occupa soprattutto di musica sacra e fa una lunga storia, dottissima storia della musica sacra e l'approccio ovviamente è un approccio teleologico, ovvero un approccio finalista cioè tutto quello che ci arriva dal passato sarebbe finalizzato alla perfezione del presente. Guarda caso la perfezione viene collocata nel presente. Noi adesso dalla nostra epoca di oggi possiamo riconoscere tutti i limiti di questo approccio teleologico, spesso rifletto sul fatto che non riconosciamo i limiti dell'approccio che abbiamo noi oggi che sotto tanti aspetti magari più nascosti è altrettanto finalista. Si parla di una via nuova di Haydn nello scrivere musica sacra però questa via nuova è stata in realtà, come dice Carpani, aperta da San Martini e sia San Martini che Haydn si sarebbero esposti alle stesse critiche. Questa via nuova sarebbe la via che unisce l'approccio scolastico degli allemanni all'approccio leggero e ricco di espedienti strumentali degli italiani. Qui si apre un altro bello spin-off, un'altra bella digressione sulla musicoterapia. Non viene chiamata così ovviamente nel libro. Carpani ci racconta di quando malato di febbre si reca vincendo la pigrizia nella chiesa sottostante a sentire una messa di Haydn che non aveva mai sentito e di fronte all'effetto della musica la febbre gli passa e lui esce dalla chiesa che si sente benissimo e da qui parte tutto un elenco ancora di casi in cui la musica ha un effetto taumaturgico. Tornando agli espedienti di novità di Haydn nella musica sacra, Carpani ci dice che uno dei suoi principali segreti è quello di utilizzare un tema ricorrente che attraversa tutta l'intera composizione, tutta l'intera messa. Dice che questo espediente crea affezione in qualche modo nel pubblico e se il tema è caratteristico, magari anche un po' strano, tanto meglio perché questo crea un effetto di riconoscibilità e di confidenza con l'opera. La lettera si chiude con una specie di processo fatto a Haydn in cui il lettore viene chiamato a essere il giudice e Carpani però dice subito da che parte sta e cioè sta dalla parte dell'accusa perché ci dice che si può ben accusare comunque Haydn dell'introduzione di troppi elementi briosi in qualche modo in nome della visione che Haydn aveva una visione estremamente ottimistica di Dio a dire di Carpani dimenticando quella più rigorosa e anche certe volte spietata insomma che deve caratterizzare chi si avvicina ai testi sacri. Infine la lettera 10 è consacrata alla creazione e ci viene descritto il momento dell'esecuzione della creazione come davvero un momento topico della storia e pare lo sia stato perché le fonti su questo momento sono tantissime e tutte ci descrivono un momento davvero di enorme commozione, di enorme coscienza anche da parte del pubblico di partecipare a un evento di un'importanza incredibile. Carpani ne approfitta ancora per introdurre un'altra dissertazione sull'imitazione in musica. Si parla di imitazione fisica e di imitazione sentimentale e anche questo è un capitolo interessante vi invito a ascoltarlo con attenzione. Dopodiché inizia una descrizione puntuale momento per momento lunghissima della creazione. Forse questa è una parte un po' noiosa perché noi possiamo ascoltarla anche solo facendo un click su YouTube. Quindi questa parte della lettera può essere interessante magari per il lessico usato, però confesso che potrebbe apparire anche un po' noiosa. In tutte queste quattro lettere troviamo ancora una serie di indizi che riguardano alcuni temi molto interessanti del periodo. Si continua a parlare dei generi, si fanno dei nomi di generi, genere drammatico, pindarico, fugato, patetico, scolastico. E' interessante l'uso che fa Carpani della parola ordinario, scritta d'ordinario, come un elemento positivo, a favore. Cioè Haydn dice, a favore di Haydn, che le sue produzioni vocali sono ordinarie, sono scritte d'ordinario, cioè come si deve in qualche modo. Oggi per noi questa accezione, questa parola ha cambiato un po' accezione. E poi è interessante l'uso della parola dilettante che si fa sempre di più in queste lettere e anche questo è un termine che per noi è diventato quasi completamente negativo, se applicato a una persona che fa della musica una professione. Mentre dare del dilettante a qualcuno in quel periodo era per lo più un complimento. Significava che qualcuno si dilettava di quello che faceva. Infatti il termine in questo caso viene applicato a uno dei più grandi cantanti dell'epoca. Grandissima dilettante viene definita. E un altro bellissimo indizio interessante è di nuovo la descrizione di un concerto, cioè in questo caso siamo alla creazione, in cui si vede ancora una volta che il pubblico durante l'esecuzione applaudiva, urlava, commentava. Ecco questa rimane per me qualcosa di inimmaginabile. Faccio sempre fatica a immaginare come potesse unirsi la fruizione approfondita di un brano con il chiasso che sembra essere descritto ogni volta che si descrive un concerto di grande successo.